Di nuovo in onda, ultima parte della nostra rassegna e andiamo a dare un'occhiata ai titoli del messaggero ostia litorale che apre con il sabotaggio del San Camillo, una vendetta, questa l'ipotesi dopo l'interruzione di ossigeno, l'indagine punta su un dipendente e appunto c'è anche lo sgomento degli stessi dipendenti per l'accaduto. Il viaggio, la terra di nessuno nelle corsie di notte tra Barboni e Squillo, pazienti parcheggiati sulle barelle per giorni, ascensori e bagni rotti, muffa e infiltrazioni sulle pareti, prostitute Barboni e sbandati accampati in alcuni padiglioni del San Camillo, questa la realtà descritta all'interno del messaggero. L'intervista, la manomissione da chi conosceva bene quel sistema, escludo che questa manomissione sia stata accidentale dal fatto che conosce bene l'impianto, così Alessio D'Amato, a capo della cabina di regia del servizio sanitario regionale, ha voluto avanzare la sua ipotesi. Rissa Monti è riesumato il corpo di Bonanni, abbiamo già capito cosa è accaduto. In fiamme l'Excelsior di Via Veneto, atto doloso, incendio doloso nel cuore della notte, in uno degli hotel più esclusivi della capitale, l'Excelsior di Via Veneto, erano quasi le 2.30 quando dal piano terra è iniziato ad uscire il fumo, accompagnato dalle fiamme sono scattati i dispositivi di sicurezza e nel giro di pochi minuti sul posto sono accorsi equipaggi dei pompieri e della polizia. L'incendio hanno appurato i pompieri, proveniva da locali della cucina, pochi danni ma molta paura. I vigili del fuoco hanno verificato che in cucina qualcuno, aggirando la sorveglianza, aveva piccato il rogo usando dei cartoni. Indaga il commissariato di polizia di zona, allertati anche gli esperti dell'antiterrorismo. Scandalo, buche, appalti sospetti. Nell'inchiesta sulla corruzione nei municipi spunta la lobby della manutenzione stradale, acquisito un dossier dell'autority nel mirino della procura. I lavori assegnati senza gara. Da Ladispoli allarme tributi, un'evasione da 3 milioni, riscossione tasi, tarie e imu. All'appello mancherebbero circa 3 degli oltre 12 milioni da incassare. Ancora in difficoltà il comune di Ladispoli sulla riscossione delle tasse, ma è mistero sui numeri. Prima arriva la notizia di un ammanco di 3 milioni a diffonderla il sindaco Pagliotta. Da Fiumicino la passeggiata turistica abbandonata al degrado, la vedete nell'immagine, porto, banchine in vase da reti e rifiuti, una banchina ingombrata di vecchie attrezzature e materiali abbandonati. Andiamo all'interno per dare un'occhiata a notizie che invece arrivano dai comuni della provincia di Roma. Partiamo da Pomezia, Campo Ascolano e Laurentina. Arrivano gli scuolabus. Oltre 500 gli alunni rimasti senza servizio da settembre. I genitori dovevano accompagnarli ritardando al lavoro. Piccola rivoluzione quindi nel trasporto scolastico. Dal 2 febbraio i bambini di Campo Ascolano potranno raggiungere con il bus la scuola di Torvaianica Alta e quelli di Via Laurentina tutti gli istituti del centro di Pomezia. Dopo quattro mesi di battaglie, proteste, attese, i genitori hanno finalmente ottenuto due risultati importanti che l'assessore Sbizzera aveva promesso da tempo. Era ora, commenta una dei genitori, che appunto aveva avanzato queste richieste. Le tabelle con le partenze, gli arrivi e i tragitti infatti saranno comunicati nei prossimi giorni. I genitori possono chiedere informazioni in comune, ha scritto il dirigente ai trasporti Giovanni Ugoccioni in un avviso postato ieri mattina sulla sua pagina Facebook del Comune, perdonate. Nulla invece fino a ieri sera sull'home page istituzionale. Andiamo poi a dare un'occhiata ai titoli del quotidiano di Latina che apre sulla giustizia, illusione Cassino, tempi lunghi e cancellerie intasate, bilancio nero dell'accorpamento. Ieri mattina oltre 150 procedimenti ad un magistrato, caos al giudice di pace. A centropagina il parco assediato dagli abusi edilizi al Circeo e l'arsenale nel Capannone, l'altra notizia di cronaca. In manette un insospettabile, aveva 5 fucili, un silenziatore e 500 pugnali. Blitz della mobile a Borgo Montello nell'indagine. Nuovi scenari da Formia, furti notturni a catena a San Pietro e poi da Velletri ricattano un sessantenne e vengono arrestati. Un taglio al passato, Cottafava va alla spalla e quindi lascia la squadra di Latina e sul litorale romano due rapine in poche ore tra Ardea e Nettuno. Un discount e un supermercato sono stati presi di mira da quattro rapinatori armati, entrati col volto coperto, i malviventi sono riusciti a scappare con discreti bottini. Indagano polizia e carabinieri. Andiamo all'interno per dare un'occhiata ancora ai titoli dalla provincia di Roma. Cominciamo con questi fatti che troviamo all'interno del giornale e arrestati per la tentata estorsione. Hanno denudato e rapinato un sessantenne di Velletri, quattro persone finiscono in carcere. Da Nettuno, Bagarre in maggioranza, ha avviato il confronto. Vedete Alessio Chiavetta in questa foto. Il sindaco ha parlato di incontri con ritmi serrati. Da Pomezia precari, sentenza rinviata. È stata rinviata al prossimo 5 maggio. La decisione circa la causa promossa davanti al Tribunale di Velletri da parte di 5 dipendenti di polizia locale a tempo determinato contro il Comune di Pomezia per la mancata assunzione a tempo indeterminato dopo essere risultati vincitori di concorso. Il giudice, ha spiegato ieri il sindaco della città Fucci, ha ascoltato le ragioni dell'Avvocato del Comune e ha rinviato la sentenza al fine di disaminare la giurisprudenza richiamata dall'ente a sostegno delle proprie ragioni afferenti le disposizioni normative che vincolano gli enti pubblici a procedere alle assunzioni a tempo indeterminato esclusivamente in relazione alle cessazioni del personale di ruolo. Ancora cronaca, presi di mira l'Eurospin di Santa Barbara a Nettuno e il Conad di Largo Udine ad Ardea. Due rapine in poche ore, rapine a mano armato in un discount, in un supermercato e le indagini sono tuttora in corso. Proprio di questo parliamo dal prossimo articolo sul web. Giulia, ci sono degli aggiornamenti, continuano i colpi nei supermercati. Esattamente, un altro Conad è stato preso di mira, quello di Latina nel centro commerciale Morbella. Sono state smurate addirittura due chiaste forti. Questa è la notizia che apprendiamo dal messaggero. Sono state smurate e portate via le due casse forti del supermercato Conad che si trova all'interno del centro commerciale Morbella nel capoluogo Pontino. La banda delle casse forti ha agito nella notte. Sono stati i propri dipendenti questa mattina appena arrivati sul posto di lavoro a dare l'allarma ai carabinieri che stanno conducendo ancora le indagini. Vedremo poi quali risvolti ci saranno a seguito delle investigazioni. E poi rimanendo sempre nel capoluogo Pontino parliamo di un altro argomento, un argomento importantissimo, la sanità, le liste d'attesa. Una visita cardiologica tra un anno, però pagando si può fare subito. C'è una salità pubblica efficientissima, basta pagare. Ne sa qualcosa una donna di 83 anni che deve fare una visita cardiologica con elettrocardiogramma e che ieri si è recata al centro unico di prenotazione in ospedale. Controlli di routine prescritti dal medico di base, quindi nessuna urgenza particolare per i suoi esami, ma il primo appuntamento utile a Latina è per l'11 gennaio del 2016. Pagando però e scegliendo l'attività libero professionale, ieri pomeriggio poteva già fare visita ed esame strumentale in cardiologia. Le liste d'attesa, in particolare nel capoluogo, sono appunto di un anno e l'ASLA ha anche aderito al progetto di acquisto di prestazioni per ridurle, ma nel frattempo la situazione rimane ancora questa. Quindi una lista di attesa di esattamente un anno per degli esami ed una visita cardiologica, mentre invece con un pagamento l'esame si può avere subito dopo poche ore. Sempre il capoluogo pontino, però per una notizia di tutt'altro carattere. Si torna a parlare di vertical sprint, di corsa per le scale. Capita a volte di doverle fare a piedi, magari tornando a casa e trovando l'ascensore occupato o in manutenzione. Per qualcuno invece può essere molto faticoso, per altri invece no. Ci sono infatti degli specialisti che riescono a salire ben 37 piani in circa 5 minuti. Tra qualche giorno sarà possibile vederli in azione perché ci sarà una domenica di fuoco sulle scale della Torre Pontina e il Grattacielo di Latina che verrà invaso dai partecipanti alla seconda edizione del vertical sprint, appunto la corsa verticale lungo i 702 scalini della Torre. Lo start verrà dato alle 11 e ci sono molti atleti che sono specializzati in questo tipo di corse sugli scalini, molti di loro arrivano dall'estero e sono tutti agguerriti. Saranno ben 150 gli specialisti che parteciperanno, dandosi battaglia lungo le rampe del Grattacielo, che vedete in questa immagine proposta dal messaggero. Sempre nella zona Pontina ci spostiamo di poco e andiamo a Cisterna per un convegno che c'è stato nelle ultime ore, il convegno dal titolo piuttosto eloquente senza lavoro, dal quale è emersa l'urgenza di un tavolo ministeriale per quello che ormai è diventato il vero e proprio caso latina. Lo leggiamo dal quotidiano La Voce e convocare immediatamente un tavolo ministeriale per cercare soluzione sulla vertenza avio, ma anche per attirare l'attenzione delle istituzioni sul cosiddetto caso latina. È il proposito emerso ieri sera dal convegno senza lavoro tenutosi presso il comune di Cisterna alla presenza del presidente della provincia della Penna e dei consiglieri regionali Forte e Giancole e dei sindaci di Latina Norma Cori, Pontina e Maenza che inoltre sono intervenuti anche ex dipendenti di Sapa, Midal, SCM e altre aziende in crisi. Il confronto verrà poi ripetuto lunedì mattina in occasione del Consiglio Comunale straordinario convocato a Latina proprio con tema centrale la crisi occupazionale. Consiglio che noi cercheremo di seguire e del quale vi daremo successivamente conto. Rimanendo sempre in zona, ad Aprilia sono pronti i festeggiamenti per l'anniversario dello sbarco alleato, le cerimonie sono previste per il prossimo 23 di gennaio a seguito appunto della ricorrenza nel 22 del 71esimo anniversario dello sbarco delle truppe alleate. Il primo appuntamento in via della Rimembranza in località Campo di Carne dove verrà deposta una corona di alloro e poi alle ore 11 in via dei Pontoni in località invece Buon Riposo nei pressi del monumento alla memoria del tenente Eric Fletcher Waters e di tutti i caduti dello sbarco rimasti senza sepoltura. Questi principali due appuntamenti della città di Aprilia in data 23 gennaio prossimo. Prima di chiudere due notizie che arrivano da Pomezia è stato chiuso il secondo piano di un hotel perché è stata trovata legionella nell'acqua questo appunto a Pomezia per nell'hotel, in un hotel a scoprire la presenza del batterio nella struttura sulla pontina sono stati tecnici dell'Arpalazio e il comune ricevuta la comunicazione dall'ASL si è affrettato ad ordinare l'immediata chiusura del secondo piano l'ARPA ha compiuto delle analisi sui diversi campioni di acqua prelevati nella struttura e in quelli del secondo piano ha riscontrato appunto un'elevata concentrazione di legionella l'esito degli accertamenti è stato comunicato al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL RMA che è dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica l'8 gennaio scorso ed è partita la richiesta al comune di disporre immediatamente la chiusura a tutela della salute pubblica e di ordinare la bonifica inoltre dell'impianto di distribuzione dell'acqua per eliminare le fonti di infezione detto e fatto il Sindaco Fucci ha disposto che venga reso off limits il secondo piano e si proceda alla bonifica della rete di distribuzione dell'acqua quindi questo è quello che verrà attuato nei prossimi giorni un ultimo aggiornamento sempre per Pomezia con poste italiane che si scusa con i residenti e spiega i motivi dei ritardi attraverso una nota ufficiale rivolta ai cittadini del quartiere di Nuova Lavinium per i disagi poste italiane ha informato che il servizio di recapito è dall'inizio di questa settimana svolto con regolarità tutte le zone sono servite da portalettere che lavorano a pieno regime poste italiane ha infatti attivato un piano straordinario che permetterà entro i prossimi dieci giorni di recapitare ai destinatari la corrispondenza ancora in giacenza i disagi segnalati nello scorso mese di dicembre sono infatti legati alla improvvisa assenza di alcuni portalettere titolari circostanza che ha determinato l'effettivo rallentamento delle operazioni di consegna però tutto tornerà sta tornando alla normalità da qui ai prossimi dieci giorni verrà anche smaltita la posta rimasta in giacenza per questo problema che si è venuto a creare con questa notizia noi chiudiamo questa edizione della nostra rassegna stampa ovviamente ringraziandovi per averci seguiti ancora una volta e allora grazie e arrivederci a domani arrivederci